Oltre il 90% dei 400 studenti che hanno risposto al questionario somministrato a fine corso crede che Internet sia virtuale e invece è reale. È uno dei dati emersi nel convegno conclusivo di Luci e Ombre di Internet, iniziativa della Camera di Commercio di Chieti, che ha coinvolto i sei istituti superiori del capoluogo teatino. Gli studenti hanno partecipato ad un ciclo di incontri con psicologi, sociologi, esponenti della Polizia Postale, esperti di economia digitale e anche giornalisti sui vari aspetti del mondo di Internet, che può essere una trappola per dipendenze patologiche oppure un'opportunità per nuovi mestieri. Il progetto pilota è nato dalla presentazione del libro I linguaggi in rete della sociologa Angela Rossi. Adesso la Camera di Commercio punta ad un progetto più ampio che possa coinvolgere le scuole sul territorio regionale. Il presidente Roberto Di Vincenzo. Nato per caso, ma che ha avuto un enorme successo. A partire dalla presentazione di un libro di una sociologa Gachitina, Angela Rossi, è nata questa idea di parlare all'interno delle scuole del tema del digitale. Un tema che ovviamente i giovani lo affrontano praticamente quotidianamente, anzi, sono invasi dal tema del digitale, ne sono pervasi. E quindi abbiamo voluto, come dire, incominciare a ragionare con loro su quelle che sono le grandi opportunità, perché la maggior parte di loro lavorerà in questo ambito oggettivamente, ma anche quali sono le problematiche che sono connesse, i rischi che in alcuni casi stanno portando i giovani anche a situazioni davvero gravi, di stalking attraverso internet o a cadere in trappole di adulti per la pedofilia. Ci sono una serie di temi che sono quindi di grande complessità. E l'adesione di tutte le scuole, la risposta di questi giovani, questi corsi che abbiamo fatto all'interno delle scuole, la disponibilità della Polizia Postale ad accompagnarci in questo percorso, hanno reso, a mio giudizio, un servizio alla cittadinanza, un servizio importante. Durante i vari incontri, a mettere in guardia gli studenti dalle trappole di internet, è intervenuta Elisabetta Narcisi, dirigente del compartimento Polizia Postale di Pescara. Sì, abbiamo messo in guardia. È stato importante il nostro supporto, è stato importante chiedercelo, lo facciamo, è una delle mission della Polizia delle Comunicazioni. Abbiamo incontrato dei ragazzi, molti ragazzi, abbiamo cercato di sensibilizzarli sull'uso corretto dei social network. Sono stati molto attenti ed è auspicabile, insomma, ripetere come deterrente questa attività. I ragazzi le sono sembrati consapevoli dei rischi che corrono? Sì, i ragazzi sono consapevoli, ma come tutti gli adolescenti credono che tutto ciò possa avvenire ad altri e non a loro. E quindi qual è il consiglio che avete dato? Il primo consiglio che diamo è quello di capire e comprendere che l'internet non è una realtà virtuale, ma è una realtà assolutamente reale. e io uso di molti corsi di digital detox anche per gli altri. Grazie.